Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video episodio numero 25 della nostra serie di Minecraft Signori, io sono precisamente dove ci sono stati ieri, non ho fatto né un passetto in più né un passetto in meno Proprio per continuare con voi questa esplorazione Allora, quest'enderman io lo ammazzerei volentieri per prendermi l'ender Però non mi fido di me stesso, signori, non mi fido di me stesso E abbiamo finito le torce, ottimo Quello che ieri mi sono preoccupato di fare il piccone, non mi sono preoccupato di fare le torce Quindi per ora io direi all'enderman di lasciarlo perdere bello tranquillo, coccoloso Lui non rompe le scatole a noi, noi non rompiamo le scatole a lui Allora, qui c'è del ferro Mamma mia, mi ha fatto prendere un corpo di sale Senti, tu mi provochi e io ti ammazzo Dico, non è che ci sono problemi, cioè mi vieni qua vicino, mi provochi e io ti ammazzo Dico, vuoi la guerra? E la guerra ci avrai, avrai Dico, non è che siamo qui a pettinare le bambole A pettinare le bambole, però mi devi far mettere i pezzettini Mi devi fare mettere, non me lo fa mettere, io mi allargo di qua Ti pare che ci sono problemi? Ti pare che abbiamo problemi? Però sì, aspettate un attimo, qualche problema l'abbiamo sicuramente Perché io non ci voglio morire qui Quindi ci mettiamo belli tranquilli qui in sicurezza Tu c'è un blocco di terra Il problema, sapete qual è? Che io appena questo gli torno a spadata Questo mi cadereà sotto Ma perché io devo iniziare i video in maniera brutta? In maniera che voglio fare una cosa e poi me ne trovo a fare tutt'altra Qualcuno me lo spiega? Sto facendo un ponte per evitare che l'ender non cada di sotto Ma vi rendete conto? Dovevo semplicemente raccogliere questo ferro di qua Però se tu mi dai l'enderpearl te ne sarei molto grato Perché sai? Tornare a casa con un'altra enderpearl un giorno dovremo andare anche a trovare il drago Che tu conosci molto bene, il tuo amico drago E quindi se tu riuscissi a darmi... Cioè ho fatto tutto sto casino e non mi ha dato manco l'enderpearl Ma sei proprio inutile Allora, per prendere quel ferro di lino dovremmo... Niente signori, doveva essere un video di continuare l'esplorazione della miniera Invece sta diventando un video di ponteggi Ponteggi, cantieri, nuovi cantieri di Minecraft Come trovarli? Allora, ma vaffan... Ma tutte oggi devono capitare Vuoi chiudere qua st'acqua? Come cazzo la chiudo? Non la posso chiudere Tra l'altro sta anche morendo dall'ossigeno Però va bene Recuperiamo questo ferro velocemente Dai, dai, dai No, sto a morire, sto a morire, sto a morire Ma porca miseria Ma tu ti immagini che io devo... Devo, devo... Ok, ce l'abbiamo fatto Tutto per quattro pezzettini di ferro Tre pezzettini di ferro Perché uno se ne sta andando Va bene Ok, ok Stiamo calmo e stanco e freddo, signori Calmo e stanco e freddo Fino a qua ci siamo arrivati Fino a qua ci siamo arrivati Là c'è un ragnetto che non mi sta per nulla simpatico Che è cascato Bravo il ragnetto Bravo il ragnetto Ti sei levato da solo dai tre passi Ok No, questo è gravel Mi sembrava che c'era qualcosa che stava cascando Lo sento ancora vicino Lì ce n'è uno che sta a fare la breakdance nell'acqua Va bene Ti lascio libero tranquillo Balla Partecipa a qualche programma musicale Magari ti prendono Ti prendono E diventi famoso Ok Noi siamo leggermente usciti dalla miniera Questa cosa non mi Non mi aggrada per niente Perché uscendo dalla miniera Abbiamo un attimino Un attimino perso i nostri riferimenti Ovvero trovare le casse Ciò che realmente a noi ci interessa di questa miniera Di qua mi posso buttare Mi farò malissimo Sì, quindi fettino di carne subito in mano C'è qualcuno? C'è qualcuno? Buongiorno 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 Non c'è nessuno Ok Torcina Torcina Di qua possiamo ancora scendere Di qua la miniera continua No Ma presa in giro Pensavo che di qua la miniera continuasse Invece Non continua minimamente Qua c'è un pezzettino di ferro Qua vedo una Una cosa di ragno Quindi vuol dire che di lì forse si continua Ferro E ferro che casca là sotto Ora lo andiamo a recuperare Di qua mi sa che non c'è Non c'è niente un parolone Mi mette una torcia? Di là si scende Ok Di qua continua Di qua continua E di qua continua Allora aspettate un attimo Andiamo di qua Così questa parte la Questa parte la chiudiamo Sì, col cavolo che questa parte la chiudiamo Sì, no Questa parte la chiudiamo Non c'è niente Niente interessante A parte questo pezzettino di ferro Che recuperiamo Grazie Gentilissimo E che paranoia però E va bene Volete che scendo? E io scendo Non ho alcun tipo di problema Salve Buongiorno Buongiorno Sono l'esploratore Buongiorno Buongiorno Salve Non voglio fare del male a nessuno Se nessuno fa male a me Allora Qua c'è dell'altro ferro Ok Recuperiamolo Sono lui Basta che non mi casca pure questo di sotto Ok, meno male Recupera Recupera questo ferro Mannaggia Ok Io continuo a sentire i ragni Questa cosa non mi piace Io i ragni Non li sopporto Dovremmo cercare di avvicinarci A dove Sentono zombie Ma non lo vedo Sentono zombie E dei ragni Ma non vedo Nell'uno E nell'altro Qui non c'è Mi sto dicendo sempre di più A dei ragni Ma non so niente dove siano Quasi continua a scendere Ok Lì c'è tanto ferro Perfetto Prego quello che volevamo Torcia qui Recupera questo ferro di qua Bello così Perfetto Piccone distrutto Ma lo possiamo sostituire subito Recupera un altro poco di rotaie Che non ci serviranno Ci serviranno a poco queste rotaie che sto prendendo Perché se facciamo la farm di rotaie Dico la svoltiamo pesantemente Ok Ferro recuperato Torniamo su Qua c'è di essere Una cosa di ragni sicuro Torcia Ok Torcia Qui non c'è assolutamente niente Ma stiamo finendo le torce Quindi facciamo altre torce Guai a rimanere senza torce signori Perché se no Siamo proprio nella cacca più totale Quindi per questo È buono portarsi a casa Tanto carbone Che poi comunque a casa ci servirà il carbone Però Però poi eventualmente Se finiamo oggi la L'esplorazione No Di qua ci siamo andati L'ho sentito muovere Li sento muovere Ma non li vedo Porca miseria Questa cosa mi dà fastidio Ferro Ok 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 ferro Di qua ci sono delle torce Di là c'è un creeper Che andiamo dritti dritti ad affrontare Lui non ci ha visto Non l'abbiamo visto Lo freghiamo prima Sperando che da queste traverse Non esca nessuno Perché se no Siamo fregati Quanto ci stai morì? Grazie Gentilissimo Allora Noi veniamo di qua Perfetto Proviamo ad andare di qua Un'altra cassa Me la dai Porca miseria Una Una Con magari qualche diamantozzo Non ti sto chiedendo tanto Questi Questi signori Me li porto a casa Perché Così possiamo continuare a abbellire La nostra Bellissima Isola Volante Cioè fai a pigliarlo? Sì Piccolo excursus Che non ci interessava Però nell'excursus Trovo il carbone E me lo prendo Per il discorso che facevo prima Signori Che le torce a noi ci servono Come il pane Quindi Senza torce Non andiamo da nessuna parte Di conseguenza Uh ferro Ferro Ok Una doppia esplorazione Che Diciamo che Stiamo recuperando solo dei materiali Abbiamo trovato una mela d'oro Che non disdegniamo E Certo Trovassimo qualcosina di meglio Non sarebbe male Però Però Piano 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 Non per forza dobbiamo trovare Tutto subito Tutto subito Dai Il secondo episodio Di questa esplorazione In grotta La concluderemo qui Senza ombra di dubbio Non possiamo Allargarci ancora più di tanto Però 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 da dove venivo io? Questa è una bella domanda Da dove cazzarola venivo io? Qua vedo una torcia Ok 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 di là si esce Di qua la grotta continua Ma a noi Ma a noi non interessa Ma a noi non interessa A me mi servirebbe trovare Una Un'altra cassetta Carina e coccolosa Con magari un diamantozzo Tanto per di Tanto per l'impresa Tanto per di Ce l'abbiamo fatta E invece non mi fai trovare nulla Nullo Mi fai trovare Monnoggio Monnoggio a te Allora Andiamo di qua Ma di qua Penso che comunque Andiamo a finire sempre Verso la zona Aperta Sì 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 Mi sa che dobbiamo risalire Signori Oh là c'è del ferro Mi sa che dobbiamo risalire Quello era un creeper O era una pianta? No Forse era una pianta Ok Dobbiamo risalire Dobbiamo risalire Ricopriamo il ferro Torcia Io ricordo a tutti Che noi abbiamo Un'armatura Di Mezza di ferro E mezza d'oro Signori Quindi siamo Un attimino Come si dice in siciliano Arrunzati Siamo un attimino Arrunzati Allora Signori ricordiamo L'ho fatto questo pezzo di strada L'ho fatto cadere Del ferro Da qualche parte Ma non mi ricordo dove Lì c'è del ferro Ok Torce come se non ci fossero domani Di lì non ci siamo andati Quindi facciamo il ponticello Ok Torce Torce E qua non c'è più niente Aia Maledetto Maledetto Bastardo Mangia subito E recupera la vita Come se non ci fossero domani Spada in mano Allora Lui è caduto là sotto Quindi ce ne frega Proprio poco Di quello che ha combinato lui Torniamo di qua A noi Ok 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 Continua a sentire Mi sta venendo un nervoso Signori Perché sento questi ragni Ma non li vedo Mi sta venendo Veramente L'angoscia Dava questo Se non possiamo saltare Me la dai Un'altra Un'altra cassa Porca miseria Due me ne date Che ci vuole darmi la terza Mamma mia Meno male che ci stava l'acqua Meno male che ci stava l'acqua Signori Meno male che ci stava l'acqua Dove siamo finiti Non lo so Dove eravamo raggiunti Dove eravamo arrivati Non lo so Però ringraziamo il cielo Che ci stava l'acqua Se no Stavamo morendo E avrei già chiuso la live Il video Signori Stavamo Se morivamo Chiudevo il video Come se non c'erano domani Con calma Con calma e sangue freddo Siamo tornati qui In un punto in cui Non eravamo stati Perché Non vedo torce Almeno non le vedo Fino a qua Però qui vedo Del ferro Dell'ottimo ferro Quindi metti Sto ferro qua Ci saranno Ragni Sopra la nostra testa Come se non ci fosse Un domani Perché vi ricordate Che all'inizio del video Avevamo visto Quello spondi Ragni Che eravamo stati Lontano E mi sa Che ce l'abbiamo Tutti sopra la testa Che cosa non va Per niente bene Perché i ragni Venenosi Sono pericolosissimi I ragni Venenosi Sono pericolosissimi Ecco Che cosa avevo detto I ragni Per le nosi Sono pericolosissimi Sono lì Lì ce n'è uno Noi non abbiamo Manco un arco Per poter No 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 Abbandoniamo quel carbone Lì Non dovrebbe poter Passare lui di qua Però per sicurezza Facciamo così Abbandoniamo quel carbone Sono tutti sopra la nostra testa Di qua ci siamo scesi Sì C'è una torcia Di qua Non c'è nulla E mi sa Che l'abbiamo esplorata Tutta Signori Mi sa Che l'abbiamo Esplorata Tutta Mi sa Di sì Eccolo dove Lo spawner Signori Eccolo qui Il nostro bellissimo Spawner Di ragni E sopra la nostra testa Sì Dobbiamo vedere Di affrontarlo Però non possiamo Lasciarlo Lasciarlo lì Non possiamo Lasciarlo lì Quindi proviamo Intanto a risalire Un attimino In una parte più alta Creeper Creeper In vista Signori Creeper Esplorata Va bene Va bene Va bene Danno Ma non più di tanto Ok Saliamo di qua Dammi anche la pietra Ah no Me l'aveva data L'enderpearl Me ne sono accorto Ora prendo Il L'inventario Quindi lo spawneranghi Sarà qua dentro Dove cazzarare Lo spawneranghi Signori Sto in silenzio Perché sto cercando Di orientarmi Cioè Prima aveva Un meragno Sopra la testa E E E E ora non li riesco più a ritrovare Ma in che senza Ok Ma Quindi si dice Ma sei scemo Sì Sono caduto come un pirla Riesce a salire No Non riesco a salire Perché c'è la pietra Sopra la mia testa Ok Ora dovremmo riuscire a salire In maniera comoda Facciamo un disegno A4 Perché sennò Cadiamo male Mi sa che sto di là I ragni Signori Ho come questa sensazione Ho come questa sensazione Di terrore Che mi sta pervadendo Però mi sa che I ragni Sono Oh là c'è del ferro Dici Ma i ragni Sì signori I ragni va bene Ma il ferro è importantissimo Perché noi potremmo anche Volendo Allora noi Ora facciamo una cosa Ce ne sbattiamo Altamente Alla faccia di tutti Ci mettiamo la mela d'oro Qui vicino Signori Perché se I ragni Mi Pintano male Noi ci caliamo La bellissima mela d'oro E li freghiamo Completamente Perché Secondo me Sono da questa parte Di qua Zona in cui Ancora Non eravamo andati A esplorare Scommettiamo Aspettate di qua Si cade Quindi Ponticello Tattico Ponticello Tattico Ponticello Tattico E anche Torcetta Tattica Torcia Tattica Torcia Tattica Ok E di qui Non c'è niente E di qui Non c'è niente I ragni Saranno Qua sotto Sicuro Devono essere Da qualche parte Sti cazzolati Ragni Non è che Possono essere Dove cazzola Siete ragni Ma intanto Lì c'è Una mia torcia Aia Allora Stiamo calmi Io devo trovare Questi ragni Signori Ok E li abbiamo trovati E li abbiamo trovati Molto Molto Facile E veloce La situazione Situazione Molto Facile E veloce Allora I ragni Sono lì Quindi Noi ora Facciamo una cosa Così In teoria Dovrei riuscire Sono lì I ragni I ragni Sono qui Signori Eccolo E no Questo lo eliminiamo No 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 Non me ne frega Nulla Signori Non me ne frega Altamente Nulla Abbiamo beccato Preciso Lo spawner E li abbiamo Ammazzati Come se non ci fossero Domani Quello Riusciamo a Ammazzarlo Riusciamo Riesco A ammazzarti Mannaggia A te Non ci riesco A ammazzarti Io tra l'altro Non so Quanti ce ne possano Essere Lì Quindi Oh signori I ragni Velenosi A me fanno Paura Già mi fanno Paura Nella vita Normale Pensa Nel videogioco Ti riesco A ammazzare Ok Perfetto Eri tu Che rompevi Le scatole No Ci sono Anche i suoi Fratelli Mi sa Qua c'è un'altra strada No C'è solamente questa zona di qua Dello spawn Di Ragni Che ora Con calma Elimineremo Perché tanto lo spawn L'abbiamo distrutto Signori Quindi Possono esserci solo quelli che sono in vita Non ci possono essere altri spawn Altri ragni Guarda che casino Che stanno facendo Mannaggia a voi No 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 Ma sono 8000 Ma stiamo scherzando Io pensavo ce ne fosse solo uno Mamma mia Che paura Mamma mia Mamma mia Ma io ce l'ho Qualche freccia Ah no Non c'ho manco le frecce Ok Uno l'abbiamo eliminato Ok Due l'abbiamo eliminati Tre l'abbiamo eliminati Ah E quattro l'abbiamo eliminati Signori Meno male Abbiamo fatto fuori i ragni Tutto per ottenere Così un pezzettino di ferro Mamma mia Mamma mia Signori Allora con un'armatura in diamante Con gli incantesimi giusti Non avrei avuto tutto questo pensiero Ok Abbiamo la mela d'oro Tutto quello che volete Ma sinceramente Eh anche No signori Questo è il carbone Che avevamo lasciato qua prima Che recuperiamo Che recuperiamo Sopra Non c'era più niente Quindi possiamo scendere Tranquillamente Di qua sotto E Boh signori L'esplorazione del dungeon È Finito Non c'è altro Possiamo un attimino Farci un giro Magari qua in caverna Per vedere se troviamo Qualcosa di più interessante Ma non penso Penso sia Tempo perso Girare qui in caverna Possiamo fare un giro veloce Facciamo così Faccio un taglio Faccio un taglio Velocissimo Se trovo qualcosa di interessante Vi aggiorno Vi aggiorno Se no ci vediamo Per la chiusura del video Signori miei Se no ci vediamo Per la chiusura del video Niente di particolare Signori Ho fatto un giro Ma non c'è niente Di interessante A parte dei mostri Tutti davanti La mia faccia Nell'altra parte Del mare Detto questo Signori Io vi ringrazio Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il gente E per il supporto Noi ci vediamo Domani con un nuovo episodio In cui torneremo a casa E vedremo un attimino Cos'altro Cos'altro poterci inventare Bella raga Ciao Ciao